Un'impresa titanica, mettere il braccialetto, ah non ce la farei mai, attenzione eh, con una birra in corpo, vedete, non si riesce più neanche ad annacciare un braccialetto, ecco scordate la tutta che ci vediamo se cambia qualcosa, vai, track, eh vedi, i riflessi già ne risentono, guarda, i riflessi come ne risentono, guardate, guardate, giovani sappiatero che è una media può causare questo, una media però è una giornata all'eterno, anche, è vero, in effetti ti spacca anche quello, dai che ce la fai, dai, eh sì ma è il terminativo questo, vuole la massima sovretà, ah, bravo, veramente bravo, un altro uomo distrutto, da mille fatiche, ed è una asciugata notevole, vai, a tutti, a chi, a chi? a tutti, a tutti, a tutti, bravo, credo che la consapevolezza della cosa è molto alta, anche se non c'è qui niente, eh, se non devi non vale, se non devi non vale,